ciao madre e buona giornata sono qui nella stanza della fondatrice sono qui perché assieme a voi la riconosciamo la nostra grande protettrice e colei che in cielo invoca per noi la grazia di liberarci da questo male che flagella noi e tutta l'umanità e vorrei così mandarvi un messaggio che tolgo le lettere che leggo delle lettere di maddalena a elena bernardi faccio mie queste parole e dice così maddalena puoi credere mia cara figlia quanta voglia o di abbracciarti ma in questo momento non è possibile allora facciamo in modo di essere vicine di darci coraggio a ciascuna di noi a te madre dico coraggio sii forte mia cara figlia in questo mondo conviene sapere lo sappiamo accogliere le croci alcune non sono previste come questa non programmate ma chiediamo al signore la forza di portarle con virtù e non solo con virtù ma anche con coraggio ed allegrezza allora a ciascuna a te madre che mi ascolti a tutte voi madri che vivete nella comunità di conselve feltre fonzaso mestre padua immacolata padua san daniele schio casa caritas treviso bacchita treviso betania trieste baddobbiadene venezia veternico a voi madri che vivete nella comunità di arzignano bassano del grappa bologna corredo fidenza legnago poiano schio bacchita trento verona casa madre verona santo stefano villa franca a voi madri che vivete nella comunità di bagnolo mella benizzone brescia san giuseppe brescia santa maddalena brescia san martino costa lunga ghedi iseo montiano offanengo rovato a voi madri che vivete nella comunità di elme ballabbio bergamo rocchetta bergamo san gottardo caprino bergamasco cassano maniago como forte dei marmi legnano magenta milano via della chiusa milano via tagliamento monza nova milanese pavia garibaldi pavia senatore porto san giorgio seregno tradate verte mate a ciascuna di voi a tutte le vostre carissime comunità in cui siete inserite a tutte le comunità dell'istituto un abbraccio a nome mio a tutte a nome di tutte le sorelle del consiglio e di tutte le madri che sono qui in casa madre un abbraccio buona giornata un abbraccio a nome mio a tutti i miei